Siamo a fine gara, cari studenti qui collegati dallo stadio di Foglianise, davvero una grande vittoria, siamo qui con mister Cerullo, la squadra di calcio dell'Antonio Tedino è in sesta posizione, manca una sola giornata alla fine del campionato, in realtà la squadra ha confermato la sesta posizione, lei si sente soddisfatto per la prima volta in questo campionato di aver raggiunto la sesta posizione e in più, ricordiamo, l'ultima domenica voi giustamente ve la giocherete tutta. Sì, è stata una bella soddisfazione vincere l'ultima partita in casa, quindi mantenere la posizione sesta appunto, la partita sarà proprio la lettura della stagione, l'abbiamo sudato fino all'ultimo secondo per vincere questa partita, proprio la 94esima, il 2-1, però siamo soddisfatti, dedichiamo questa vittoria e questo bellissimo campionato a Antonio Tedino, noi abbiamo questa squadra proprio in onore sua, quindi dedichiamo questa vittoria e questo campionato a lui, e niente, siamo, ripeto, siamo soddisfatti tantissimo, più di questo non potevamo chiedere, la squadra è più attrezzata, naturalmente, noi siamo una squadra di alta giovane, l'anno prossimo speriamo di crescere, ma per quest'anno va bene così, è andata.